Buongiorno a tutti, ben ritrovati da vostro, andrò in grado su Inazuma Eleven 2 Iniziamo un nuovo capitolo e il capitolo di quest'oggi è particolarmente interessante Non solo perché affronteremo una nuova squadra, ma anche perché andrò a reclutare Sanford E ovviamente la seconda parte del capitolo riserva una bellissima sorpresa Ovviamente ormai chi mi segue sa che Inazuma lo carico due episodi per capitolo Perché se no avrebbe un capitolo di un'ora, un'ora e un quarto, insomma, è un po' palloso Quello che sappiamo è che il sottomarino dell'Absolute Royal è andato in mille pezzi ed è scomparso negli abissi, caso chiuso Quindi ormai il sottomarino è andato Ma ancora non è chiaro chi abbia permesso a Dark di usare il potere dell'Alius Beh, ovviamente dal capitolo scorso si è capito che Wiles, quel coreano, quei capelli verdi e il viso pallido Ha permesso appunto a Ray Dark di usare O meglio, non è che ha detto a Ray Dark ho dato io il potere Però si capisce che sta facendo i suoi interessi e non quelli del comandante supremo dell'Alius Quindi insomma è chiaro che è stato lui a dare a Ray Dark il potere della pietra dell'Alius Non riesco a togliermi dalla testa le parole del primo ministro Dietro l'Alius apre una forza immensa e malefica È già Gregory Seymour, questa situazione non mi piace per niente Dark ha privato il mio amico David e i vanseriti sogni e persino della sua vita Non glielo perdonerò mai Nessuno ha membro del calcio come David, dedicandogli così tante energie Ho aggiornato a me stesso che l'avrei vendicato Ma non avrei mai pensato che sarebbe finita così Se David fosse qui Gregory Pronto? Ah salve, parlo con l'allenatore Iman, saranno Sharon Evans, la madre di Mark Oh salve signora Evans Che cosa posso fare per lei? Il fatto è che ho appena ricevuto la telefonata dalle preside di una scuola a Fukuoka Dice di aver trovato qualcosa che mio padre gli aveva lasciato Qualcosa che gli aveva lasciato David Evans? Così ha detto, era piuttosto sicuro che questa cosa avrebbe aiutato Mark a sconfiggere l'Alius Dice di volerla incontrare per discuterne in privato Capisco Beh non posso dirle di più ma tengo gli occhi aperti ok? Adesso devo andare, a presto Grazie signora Evans, a presto Secondo me sarebbe più logico chiamare il preside della scuola Della Raimon ovviamente Non l'allenatore della squadra di calcio Anche se la squadra di calcio è quella più importante al momento Alla Raimon dato che hanno vinto il campionato Non è che tu chiami l'allenatore di una squadra, di un club, della scuola Insomma un po' particolare Partirà per Fukuoka, se scoprirà qualcosa te lo farò sapere E a Fukuoka, uh chi c'è a Fukuoka Ma non andiamo troppo avanti Concentriamoci su questo capitolo per ora Oh adesso che ci penso Conosco qualcun altro che ama il calcio più di ogni altra cosa E chi? Mark Ha ereditato questa passione per il calcio dal nonno, non c'è dubbio Sì Sì hai ragione Beh adesso non posso far altro che dare Mark e la squadra Farò qualche domanda a primo ministro Ho l'impressione che lui sape più di quello che dice Non sovraccaricarti di lavoro Gregory Non sei più un giovanotto Parla per te Seymour Io varo, ci vediamo C'è lei Capitolo 6 Un giro in giostra Oh yes Oh yes Mark mi ha appena chiamato Kevin È in convalescenza con Steve Grimm e gli altri Beh speriamo si riprendano presto Sarebbe bello andare a fargli visita Quindi quanti campagni sono finiti in ospedale fino ad ora? Speriamo che non ce ne siano altri Non possiamo permetterci altre partite nella squadra Zitto non lo dire Non lo dire per favore Certo che le decisioni delle allenatrici lasciano un po' perplessi Dobbiamo stare attenti e finiremo tutti a fare i campagni a Kevin Scott non dire queste cose C'ha quasi azzeccato Ragazzi ascoltate Ci sta chiamando il direttore Mio padre? Chissà di che cosa si tratta E scopriamolo allora Cosa? Avete scoperto i nascondini dell'Alius? Non siamo ancora sicuri a 100% Ma siamo ottimisti Gli investigatori del gruppo Ramon hanno seguito i movimenti dell'Alius Tutte le prove sembrano ricondurre alla città di Osaka Osaka? Non potresti essere un po' più preciso? Purtroppo no Purtroppo non posso dirvi di più Adesso tocca a voi andare a Osaka a cercare qualche indizio Ho già inviato il mio assistente sul posto Quindi per prima cosa dovrete incontrarvi con lui Capito? La forza distruttrice dell'Alius non accenna a diminuire Se è vero che il loro nascondito si trova a Osaka Potreste incorrere in un grave pericolo Non è facile per me assegnarvi questa missione Non ti preoccupare Fidati di noi Il fatto di essere un piccolo gruppo ci faciliterà nella ricerca Mia cara Nelly E pensare che un tempo eri proprio una bimbezza capricciosa Guarda come sei cambiata Mi fai arrossire? Scusa mi sono fatto prendere dall'emozione Beh buona fortuna in Azuma Eleven Sono sicuro che non mi deluterete In Azuma Eleven? What? Raimon Eleven Cosa si è successo in Azuma Eleven? In Azuma Eleven era la vecchia squadra Forse si è confuso lui mentre parlava Sì sicuramente Mettermi così in imbarazzo davanti agli altri Hihihi Cosa c'è questa risata? Hihihi Allungata Il direttore ti vuole molto bene Nelly Questa lo sai vero? Beh dovresti sentire mio padre Non fa che spiattellare in giro Che sono la figlia migliore che potessi avere Non che l'unica Sì Non posso credere Ci sono davvero riscaldando su chi ha la cocca di papà? Eh Purtroppo io non posso candidarmi Scusi non ho sentito Ho detto qualcosa? No no Niente Osaka eh Chissà se è veramente nascondito dell'Epsilon Allora scopriamo Sì lui pensa sempre a mangiare E secondo voi saremmo in grado di affrontare quelli dell'Alius nel loro cubo segreto? Voglio dire Chissà come saremmo finiti se l'Epsilon non l'avesse fatto dietrofront Hai ragione Ma nel cubo potremmo scopare qualche dritta per affrontarli Giusto E magari potremmo trovare anche nuovi giocatori a Osaka Finché ci sarò io con voi non avrete nulla da temer dall'Alius D'altronde è merda il mio se l'Epsilon non ha fatto dietrofront Speriamo che i nostri nuovi compagni non siano pesanti come Scott Ehi guarda che ho sentito Se vuoi sappiamo una cosa da uomini Scott Jack Ti può uccidere Tu lo sai vero? È il doppio di te Tre volte te Tu sei minuscolo Piccolo Sono vivaci Questo glielo concedo Beh sì In effetti è sempre meglio loro che un gruppo di dunatici cubi e malinconici Senti a chi parla Scusi hai detto qualcosa? No Stavo solo farfugliando tra me e me Beh quando siete pronti basta che me lo diciate Io non sono mai pronto Niente non posso farlo Ho visto un attimo E parte che devo sbloccare Okinawa per Sanford Quindi a fine gioco Poi devo battere la Royal Academy Quindi a fine gioco un'altra volta Quindi insomma per il momento niente Allora magari vedrò se reclutare altro Più là Più là sicuramente Recruto qualcun altro Sicuramente Ok andiamo a Osaka dai Oh yes Eccoci arrivati Wow Tutte queste luci mi fanno girare la testa Benvenuti a Osaka Se avete soldi mi guiderò negli acquisti Il mio negozio è sempre aperto Penso che per ora non metterò mano a portafoglio Perbacco Questi sono proprio commercianti d'assalto Sì In effetti Ma più che altro a Tokyo A Tokyo davvero Quando vai per le strade Dove ci sono tutti quanti quei negozi in fila C'era gente fuori tipo gli strelloni Tanti anni fa c'erano gli strelloni E quelli uguali Tipo si mettono a commentare Tutta la merce che hanno Com'è fatta I materiali I tessuti E tutto quanto E di continuo Non smettono mai Secondo me a fine giornata Non hanno più la voce Però È davvero È davvero interessante Come cosa Che cosa vi avevo detto Così tante le corride Per perderci la testa Dopo la ferra di cibitano Della cluster Posso finalmente Lasciarmi andare Viva Adesso si fa a Baldoria Non so neanche da dove iniziare Nei Scott Non siamo qui per divertirci Dovevamo incontrare L'assistente del direttore E chiedergli Che cosa sa del covo dell'Alius Strano Dovevamo incontrarci qui Ma non lo vedo da nessuna parte Nemmeno io In effetti Non ricordo neanche Che faccia abbia Beh siamo in una grande città Nel frattempo Potremmo guardarci un po' intorno Io vado a vedere i negozi Scott ha ragione Potremmo impiegare questo tempo In maniera utile Ok Chiediamo alla gente del posto Se ha visto l'assistente del direttore Dove è lì? Scusi signora Ha visto l'assistente del direttore? Quella non so neanche chi sei Uh Il negozio di tecniche Questo mi interessa Dark Tornado Ah questo si Megane Quello che Che facevano Che hanno fatto Kevin No si era Kevin E E Willy Nell'episodio contro l'Autaku E questo? Si eccolo Oh 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 Che profumino di grassa Ma questa sarebbe la mia quarta porzione Oh Signor Danelli Aquila molto Abbastanza Non mi ha vista Ero Sovrappensiero Giuro che l'odore delle sesioni Quelle crescono Nulla a che vedere Con questa mia distrazione Ok Questo adesso non ha importanza Mica quello che sta sul covo dell'Alius Ah Sì certo L'Alius Per indurare il covo dell'Alius Abbiamo a disposizione Questo miracolo della tecnologia Basta collocarlo a terra E rintraccerà le onde energetiche Che emette Le onde energetiche? Quindi la rilevazione Ma entrano man mano Che ci avvicineremo all'Alius Esatto Facciamo partire questo gioiellino Voglio dire Mettiamo in funzione il dispositivo Bibi 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 Chi è? Aiutoci Tengo la pelle Farà bene Darci una spiegazione Che cosa ha combinato Con il dispositivo Mi dispiace Sognare lì Non è colpa Mielo giuro Forse Si è sovraccaricato Per vedere le elevazioni Questo significa che il comodo dell'Alius Si trova veramente a Osaka Può darsi La freccia di questa gigi Era rivolta al nord Quando è esploso Beh Che cosa c'è a nord? A nord Vediamo C'è Naniwa Land Credo Ma Naniwa Land È un parco di divertimenti Strano posto Per una base segreta Secondo me È una strategia È un luogo insospettabile Beh C'è solo un modo Per scoprirlo Andiamo a Naniwa Land Ui Ai Guarda dove metti i piedi Scusa Sono una ragazza Molto impegnata Vado sempre di fretta Beh Più che la voce Era così Ai La mia schiena Mi sembra di essere Sotto vestito da un canyon Ehi Todd Sprimi se dobbiamo muoverci Va bene Sto arrivando Quella è la portiera Della squadra Delle Ragazze Della tripla C All right Naniwa Land Wow Un parco di divertimenti Come si deve Il colorato panoramico E tutto il resto Non so se l'hai capito Ma non siamo qui Per divertirci Ah Non fare la vostra festa Nelly Sembra uno spas Dopo tutto il tempo Passato sull'autobus Abbiamo il diritto Di svagarci un po' Dici sul serio? Dobbiamo cercare La base segreta Dell'Alius Io sono l'unica Che prende questa missione Seriamente Non devi aver avverti Nelly Quello che dice è giusto Ma questo parco È enorme Quindi è meglio Se ognuno Ven per illustrazione Per conto proprio È una buona idea Mark In questo modo Passeremo in osservati Potete andare dove volete Ma state attenti Potremmo trovarci Proprio sopra la base Segreta dell'Alius Bene Allora Dividiamoci E andiamo Alla ricerca Del cubo segreto Oh yeah Ah ma devo scegliere Con chi andare Mark C'è qualcosa Che non va Silvia Beh è che Mi stavo chiedendo Che andrebbe Di farmi compagnia Ehi Mark Guarda quella giasta Andiamo a farci Un giro Oh ciao Nelly Anche tu intenzione Di chiedere a Mark Di fare un giro Con te E cosa No no Fare un giro Con Mark Ma neanche per sogno Mark Vuoi invitare Una giornalista A scrivere Il misterioso Caso Della base Segreta Oh Sembra che abbiamo Avuto tutta la stessa idea Sola colpa Del tuo carisma Mark Seria Eh Non ho capito Se andiamo in coppia Velocizzeremo La nostra ricerca No Sì E ci divertiremo Molto di più Chi sarà la fortunata A te La scelta Mark Beh Pensaci se poi Non dovrei fare altro Che invitare la persona Che hai scelto Ok Ho già deciso La waifu Di Nazuma Eleven È solo una Cioè lei Davvero Volevo dire Diamoci una mossa Non c'è tempo Da perdere Maledetta Ispezione Nani Valendo con Nelly C'era un punto Dove andare C'è sempre Un punto Dove andare Ovvio Se no Non avrebbe senso Oh Già 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 Arrivati Tranci Polpo Non li abbiamo Mangiati Ne prendono Da portare via Ma che bella Ragazza Che al tuo fianco Sei fortunato Pensa un po Un giorno La sposerà Ah La gioventù Polpo In tranci Non c'è Un piatto Pazienza Ci sporcheremo Un po Le mani Approfitto La prima Che si raffreddi Beh Ok Non mi sembra Molto Questi tentacoli Sono una Bontà Buono il polpo Polpo Oddio Polpo La seppia Non tanto Ma è polpo Si Polpo è buono Oh Eccoci Capisco Ok Messaggio ricevuto Ehi Gemini Gemini Storm Come ha detto Neiden Se non ci avessero Concesso più tempo Per prepararci Per noi sarebbero Stati guai Dovete fare del mostro Veglio Le sorti del pianeta Dipendono da voi Sai Non riesco ancora A capacitarmene L'idea di dover salvare Il mondo Una bella sfida Andiamo a marco Io non ci vedo niente Di bello Non intendevo questo Volevo dire Che è una missione Molto importante Adesso basta Con queste chiacchiere A vuoto Dobbiamo trovare In fretta La base dell'Alius Non pensi Che Sean Sia un po' Giuritone Ultimamente Si Non ho andato anch'io Perché non andiamo A vedere come sta Oh Guarda quella collana Come brilla È così bella E Brillante Penso che sia Uno dei premi Del tiro a bersaglio Signore e signori Fate centro E ritornate a casa Felici con una bella collana Coraggio Fai centri E vinci una collana Per la tua bella fidanzatina Fidanzatina? Ok Mi hai convinto Voglio provare Mark Non devi sentirti obbligato Invece Penso proprio Che lo farò Nelly Credimi È una delle mie specialità Guarda Wow Un tiro formidabile Hai vinto Ecco il suo premi Signorina Ah Niente male Beh Sarebbe scortese Di fiutarla Dopo tutto quello Che hai fatto Grazie Mark Ok Ti decite A vedere come sta Kevin Vediamo un po' Come sta Sean Dai poverino Era un po' Giù di morale Mark Eccolo lì È da quella parte Kevin Finalmente Ero riuscito A trovare L'affiatamento Sul campo Sei tu che mi hai Esegato Cosa vuol dire Far parte Della Raymond Ero convinto Che noi due Insieme Avremmo diventato Un'accoppiata Vincente L'attacco E invece E invece te ne sei andato Anche tu E mi hai lasciato da solo Non sei solo Ci sono io con te Sean Come sto andando alla ricerca Hai trovato qualche indizio? No mi dispiace Non ho ancora trovato niente Che strano Sean sembrava quasi un'altra persona Dici? Beh lui Ogni tanto si comporta così Quando ci sono le partite Sì Ma Che cosa è successo? Non è di allarmante Non preoccuparti Ah cibicchia Guarda quella Rota panoramica È fantastica Chissà che Vi stavo Saffiato Si godo Da lassù Scommetto che Non lo deve invidiare La torre Nazma Mark Ascolta Mi stavo chiedendo Non credi che Da un punto sufficientemente elevato Avrò più possibilità Di guardare la base? Hai ragione Penso che sia la giusta Beh in tal caso Se insisti a fare un giro Sull'orata con me Potrei anche accettare Dico davvero Mi avete preso Per sapere un altro Ehi Sembrava Todd Però veniva dall'ingresso Deve essere successo qualcosa Andiamo a vedere Oh capisco Oh si Dai Mark Che ti frega di Todd C'è Nelly Lì che vuole fare il giro Sorda panoramica E tu Todd Ma che ti frega Eccolo qua Coraggio giovanotto Chiedi scusa alla mia amica Non le ho fatto niente Quante volte Lo devo ripetere Todd Che sta succedendo Ehi E tu di cosa Ti impicci Sei un suo amico Questo vile Spreggevole Sprezzante Ladrungolo Ha rubato i cioccolatini A Daisy Le ha rubato I cioccolatini Non si trattava Le soli di cioccolatini Oh no Questi erano Dei capolavori Edizione limitata Le ha rubati La bavardissi Ha iniziato a fare La coda ad alba Pur di prenderli Guardate La inconsellabile Vi ricordo benissimo Era a mio centro Lì ho fatto finta Di non vedermi Mi è venuto addosso E mi era fregati Mostro Non riesco a credere Alle mie orecchie È lei che mi è venuto addosso Oh non è vero Butto ma scalzone Bugiardo Andiamo Adessi non piangere Adesso daremo Una bella lezione A mister Denti da scogliattolo È vero Sembra proprio Uno scogliattolo Che tenero Ciao denti da scogliattolo Come una ghianda Denti da scogliattolo Tenero Sia sono uno scogliattolo Voi siete delle galline E questa piange A vita persa Mamma mia Oh oh Rica Rica Oddio Rica No Sei tu che hai fatto piangere La mia amica Adesso ti faccio vedere io Susette Come se non bastasse Adesso arrivano i rinforzi Susette Perché la mamma fa le crap Che cos'è Che strani versi Guarda quella faccina Sembra di uno scogliattolo Ancora Dai Dateci un taglio Una notte Mentre dormi Sono spuntati due incisivi Oh Fa anche rima Ehi Adesso basta Dovete chiedere scusa a Todd Chi ti credete di essere Guarda che non prendiamo ordini Da te È tutto il giorno Che li vedo scorrezzare Anani Waland Secondo me Stanno tramando qualcosa Non farete mica parte Di quella Bianda Nulla Non farete mica parte Di quella Banda diabolica Di nome Aglius Academy Cosa Noi State prendendo L'ucciole per Lanterne Stiamo sulla difensiva Il tipico Atteggiamento Di chi Ha la coscienza Sporca Da quando Aglius Mi ha saputo Anani Waland Il numero Dei visitatori È sceso Vertigenosamente Stai a questo posto Chiudo Dove andiamo A mangiare polpo E a sfoggiare I nostri nuovi vestiti Vi sfoglieremo Sul campo da calcio Ci libereremo Di voi Una volta Per tutte Che ne dite Un momento Volete giocare a calcio Hai afferrato Noi siamo le uniche Inimitabili Rullo i tamburi Per favore Ragazze Della Tripla C Di Osaka Bella roba Motoccavoli Tripla C Carine Conturbanti 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 E chic Siamo carine Conturbanti E chic Siamo la squadra più glamour Che ci sia Ancora Basta Canzoncina L'ho scritta io Eh si vedeva E quando dico pronte Intendo quasi pronte Em ci dovresti Cinque minuti Cosa State scherzando Sei proprio un pivello Non lo sai Che una vera signora Deve farsi desiderare Un po' di pazienza Ragazzi Ne varrà la pena Credetemi Wow Questi ragazzi Sono proprio fuori Come un rigore Sbagliato Em ok Allora prepariamoci Anche noi Quando saremo pronte Verremo a dirglielo E allora Facciamo questa Benedetta partita Così possiamo andare avanti Siamo pronte Bene Diamo il calcio Di inizio Ottimo Impugna lo Stiles Parco giochi Naniwarando Ok Diamoci da fare Ma cosa Vi ho detto di non fare Scemmenze Voi vi comportate così No Di fatto che una ragazza Non ti abbiamo offerto Le cioccolatine Non è una buona ragione Per rubarteli Quante volte Lo devo ripetere Non è andata così Ci è perso per stupide Non siamo solo bellissimi Ma anche intelligenti Ora voi spiegatemi una cosa Se siete tanto intelligenti Mi spiegatemi come faceva Todd a sapere Che questa tizia Aveva dei cioccolatini Cos'è un veggente Cavolo Allora si sono intelligenti Davvero Todd è un veggente In teoria La cosa non si Era complicata Vabbè dai Le si 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 Sigarsi Aurelia Che è successo Aurelia Ma dove Quelle due tecniche Sono abbastanza interessanti Sono più delle cose Che in partita Si attivano automaticamente Però Però Dobbiamo vincere tutti i costi Tu a Nathan Ok Vediamo un po' Stai in fuorigioco Sì Mamma mia Scatto repentino Uehi Aroma magliante Come ti permetti Donna Vai Fatti una bella dormita Va Mannaggia Oi C'è 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 Lo so che ti ho fatto fare Dieci chilometri Però Andattila a fare Oh Oh Tua Perfetto Tiro Torna L'inverso Vorrei farle Io Back Tornado Dai 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 E vai E il primo gol Assegno Goal Ben fatto Raymond Oh Rio Troppo bella Rio Mi gusta un sacco Come canzone Rio Che poi ha anche La sigla d'apertura Del primo gioco Di Nazma Eleven Molto bella Vorrei arrivare con Con un fallo Con lui palla a piede Davanti all'area avversaria Almeno posso fare Come tastrale Non è un fuorigioco Ok Lo scatto repentino E' andato stavolta Come tastare Eccola Un altro gol Se lei non para Sì Oi Flava power Oh Baby Facciamo anche il terzo La loro formazione Non mi permette Di avanzare Con un solo giocatore Io riesco a andare Dai Oh Allora Quella che mi sta dietro Ora non dovrebbe riuscire A prendermi Per il tempo Che arrivo all'area E infatti Con lo scatto Ho consumato Un po' di punti Energia Ma i punti Tecnica servono Ora Swin Gusto Vai così ragazzo Vai così Quando facciamo Tipo dei passaggi Buoni Che il giocatore Dice Bella O frasi così Prendiamo più punti A fine partita Niente male Io ci è mancato poco Davvero Peccato Janus Ohi Sean Non lasciare Il campo Sbarnito Eeeh No 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 Fermati Ok Un tiro normale Willow Come le streghe Di Willow Godohando Inizio a darmi Sui nervi Ma come ti permetti Oh mio dio Che Mamma mia Che schifo Che ho fatto No 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 Grande Sean Frosty Ok E a primo tempo Se n'è andato Così facile Facile Oh 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 Scivolata Oi Oh bella Questa Chewing Gum Oh no Tutte e due Burning Fizz Ma Niente Ha vinto lei Mannaggia Oh grande 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 No Dicevo Grande al mio Non al tuo Dai Niente 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 No Dai L'avevo previsto Ma non L'ha presa Che vittoria Oh no Non sopporto Di perdere Bobby Tuolo del vulcano Beh Bene Scarpini Naniwa Nonico Sono libido Non ci posso credere Abbiamo perso Che delusione Però non ve la cavate male Ricordatevi Siamo la squadra Che ha battuto La Gemini Storm Un momento Questo significa Che la tripla C'è lo stesso livello Della Gemini Storm Quali elementi Avete seguito Per diventare Così brave Ah Saremmo mute Come un pesce Dico bene Su set Su set Che cosa ti succede L'ho trovato Mi hanno trovato Il mio principe azzurro Oh quante volte L'ho sognato Cosa È Eric Il tuo principe Eric Che nome magico Una melodia Penso che sia Della mia anima gemella La tua anima gemella Ma se l'hai appena conosciuto È il destino Che ci ha fatto incontrare Era scritto Nelle stelle Dico davvero Ecco la prova E stanno risulta Consumata Nel segno Dell'amore Edizione speciale Proprio qui Il monoscopo Dice che sto per conoscere Il principe azzurro Il suo viso Quell'accento È esattamente Quello che sognavo Da sempre Il principe azzurro Andiamo Susette Smettila Ricordati che questi ragazzi Fanno parte Dell'Alius Academy No Noi non erano di loro Lo stanno manipolando Oh tesorino Orribile quello che ti hanno fatto Mmm Tesorino Oh ce ne siamo Uno dei tanti colpi D'essere Susette Si sta innamorando Perdutamente Non credo proprio Che ci dà la retta Oh pasticcina Tesorina Per conoscere I segreti dei nostri allenamenti Eh E va bene Dunque c'è un parco Di divertimenti segreto Sotto in Animal Land Un parco Di divertimenti Segreto? È equipaggiato Che un attrezzatore Per gli allenamenti All'avanguardia Alta tecnologia Volevamo metterci in forma E in me che non si dica Abbiamo sviluppato Abilità alla super campionesse Un centro Segreto Sotterraneo Magari è lì Che si annidono Quelli dell'Alius Ma certo Avranno bisogno Di un posto In cui nascondersi All'allenarsi Tra un attacco E l'altro Susette Abbiamo bisogno Di te Potresti condurci In questo luogo Casa Perché mai dovrei farlo È una bella faccia tosta Eh Mark E se fosse Eric A chiederglielo Ti prego Eric Fallo il nome Ti menti segreto Oh Ti sorrino loro Quando mi cai Per nome Chiedite Lo compro subito Vestito da sposa Eh Vestito da sposa Sì E ti vedrai bene Con un vestito Goddard crema Su Eric Quando l'amore Bussa nella porta Devi aprire Scott Non fare dispettoso Ti porterò Ovunque tu voglia Il mio principino Susette Quel posto è il nostro Trovo segreto Non puoi portarci ragazzi Mi dispiace ragazzi Ma le cose sono cambiate Ho trovato il vero amore Siete contenti per me no? Amiche per la vita Squadra sempre unita E questo è il motto Della triple c Il motto Non è questo il motto Della triple c no Ah va bene Come vuoi Se pensi aver trovato Il vero amore Allora avrei Il nostro sostegno Ma Susette A me non pensi Oh scusa Avevo testo Da un'altra parte Per che cosa Stai piangendo esattamente? Mi hanno rubato I cioccolatini In edizione limitata Non vedo l'ora Di prendermi la rivincita Cioccolatini Ah sì I due cioccolatini Il fatto è che Sembravano così buoni Che non sono riuscito A resistere Alle tentazioni E li ho diciamo Mangiati Cosa sei stata tu? Ma Susette Come hai potuto? Beh Ho iniziato con uno Ma ne ho preso un altro E non sono più riuscito A fermarmi Ma se vuoi te ne comprate Gli altri Tanto rumore per nulla Beh al mio obiettivo Finalmente esalto questo problema Bene Adesso vi mostro L'ingresso del centro segreto Su vieni Mi ha orsacchiato Io e il mio tesorino Saremo sempre insieme E non credo ti dovermi delle scuse No se ne sono andate Peccato eh Ui Questa è una dell'Aius Quella che c'ha i ventilatori in testa Sì lo so Non sono dei ventilatori Ma sembrano dei ventilatori Troppo divertente Bene Allora direi che questo conclude Della prima parte di questo video Quindi Ci fermiamo qui Dopo la partita Si può fermare Nel prossimo video Andremo a scoprire La bassa segreta Dove si allenava All'Aius Academy E Sarà una bella sorpresa anche lì Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito Anche questo video In descrizione come sempre Link per Twitter Anche per Instagram Se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre Domani con un nuovo video Bye bye